Salve ragazzi e benvenuti nella mia cucina e oggi vi mostro i miei osomaki fritti. Per prima cosa togliamo l'amito all'incesto del riso con diversi sciacqui e lo lasciamo riposare per circa 20 minuti. Dopodiché creiamo la nostra mistura con aceto di riso, zucchero, sale e un pezzo di alga combo. Portiamo ad epolizio il nostro riso per circa 10 minuti e la fiamma altissima, successivamente la fiamma bassissima per altri 8 minuti, poi lo spegniamo e lo lasciamo riposare per 15 minuti. Prendiamo il nostro riso e lo mettiamo nel langhiri e poi versiamo la nostra mistura. Lo stendiamo e cerchiamo velocemente di far evaporare il nostro composto. Dopodiché mettiamo un panno umido e lo lasciamo riposare per circa 3 ore. Bene, adesso possiamo iniziare a fare la nostra pastella, quindi farina, bicarbonato, acqua frizzante molto fredda e mettiamo l'olio di semi nel wok e lo facciamo riscaldare. Prendiamo un po' di farina, prendiamo i nostri gamberoni e useremo il panco per creare la nostra tempura. Quindi prendiamo i nostri gamberoni, li mettiamo nella pastella, successivamente nel panco e poi li immergiamo in olio bollente. Nel frattempo creiamo anche le nostre chips che ci serviranno per fare la decorazione. Adesso iniziamo a fare i nostri osomaki, quindi usiamo un foglio di alganori, un po' di riso, lo stendiamo, mettiamo due gamberoni, una foglia di avocado e cominciamo a fare il rollaggio. Bene, adesso con la pastella prendiamo i nostri osomaki e poi li mettiamo nel panco e li inseriamo in olio bollente. Usiamo il nostro coltello specifico per sushi e cominciamo a fare la fase del taglio. Dopodiché prendiamo i pezzi di osomaki fritti e li mettiamo nel vassoio. Prendiamo la fila delfia, usiamo le nostre chips e poi per finire la salsa teriyaki. Ed ecco qua ragazzi i miei osomaki fritti fatti in casa.